Chiudi gli occhi. Separa le gambe dell'ampiezza del bacino. Lascia ricadere i piedi verso l'esterno. Distendi le braccia lungo i fianchi e volgi il palmo delle mani verso l'alto. Separa leggermente le braccia dal corpo e spingi leggermente il mento verso la fossetta della gola. Lascia che la punta della lingua appoggi sul palato dietro gli incisivi superiori. Sempre ad occhi chiusi, volgi lo sguardo al centro della fronte, poco sopra gli occhi. Abbandona il tuo corpo alla durezza del pavimento, soggetto solo alla forza di gravità. Senti ora l'appoggio dei talloni a terra e percepisci le piante, le dita e il dorso dei piedi. Senti lo sfiorare dei polpacci a terra, percepisci le rotule, le cosce e lo sfiorare di quest'ultime a terra. Percepisci l'addome, i fianchi, il petto e l'appoggio delle scapole a terra. Osserva le spalle, l'appoggio delle braccia, dei gomiti e degli avambracci a terra. Osserva i polsi. Senti l'appoggio a terra del dorso e delle dita delle mani. Percepisci il palmo e le dita delle mani e di nuovo l'appoggio delle spalle a terra. Osserva l'arco cervicale e lo spazio che esiste tra questo e il pavimento. Poni la tua attenzione sulla fronte, gli occhi, le orecchie, le guance e le labbra. Tutto il tuo corpo è abbandonato sul pavimento, soggetto solo alla forza di gravità, al proprio peso. Percepisci l'ingresso delle narici. L'ispiro entra procurando una sensazione fresca. L'espiro esce leggermente più tiepido. Lascia che il tuo respiro possa fluire in maniera spontanea e naturale, senza alcuno sforzo. E limitati semplicemente a testimoniare questo fluire all'ingresso di entrambe le narici. Tutte le volte che un pensiero, un rumore, un qualsiasi fattore esterno o interno ti distoglie da questa osservazione, con gentilezza riporta la mente all'ingresso delle narici e di nuovo osserva, senza spingere né forzare il fluire del tuo respiro. Ora ascolta il rilassamento attraverso il respiro, mentre il pavimento che sorregge il corpo lentamente inizia a scomparire. La tua essenza ora è libera di espandersi nell'universo tutto. Diventi la terra che ti ospita, il sole, il sistema solare e le stelle più vicine. La galassia e man mano tutte le galassie che compongono questo universo. Man mano arriva la percezione dell'infinito e diventa osservatore e osservato. rimani in questo stato qualche minuto, percependo l'universo tutto come il corpo che ti contiene. Dopo di questo porta la testimonianza al cuore. Il cuore diventa d'ora in poi lo scrigno che ospiterà tale testimonianza. Rimani concentrato su di esso, cominciando nuovamente a percepire il corpo fisico che ti contiene. Nel centro del cuore inizia a formarsi una sfera di colore rosso, che man mano diventa sempre più grande, fino a contenere tutto il corpo che ti ospita. Rimani ad ascoltare per qualche minuto l'energia che questa sfera rossa genera in te, diventando un osservatore distaccato delle emozioni che questa genera. diventando una sfera di colore rosso. Poni nuovamente l'attenzione sul cuore, e lui si forma una sfera di colore verde. e man mano che la sfera cresce, fino a contenere tutto il corpo che ti ospita, e diventa grande quanto la sfera rossa coincidendo perfettamente con essa. rimani ad ascoltare per qualche minuto l'energia che questa sfera verde genera in te, diventando un osservatore distaccato delle emozioni che genera. rimani ad ascoltare per qualche minuto l'energia che questa sfera di colore. Poni di nuovo l'attenzione sul cuore. Ora si forma una sfera blu. Man mano la sfera cresce, fino a contenere tutto il corpo che ti ospita. e la sfera blu diventa grande quanto le sfere rossa e verde, coincidendo perfettamente con loro. rimani ad ascoltare per qualche minuto l'energia che questa sfera blu genera in te, diventando un osservatore distaccato delle emozioni che genera. ora le sfere rosso, verde e blu si uniscono, formandone una bianca. rimani ad ascoltare per qualche minuto l'energia che questa sfera bianca genera in te, diventando un osservatore distaccato delle emozioni che genera. la sfera bianca di luce si rimpicciolisce pian piano e entra nel cuore. rimani per qualche minuto a osservare, come testimone distaccato, le emozioni che questo genera, fino a quando questa sfera bianca diventa un punto infinitamente piccolo. da questo punto sorgono tre sfere trasparenti, che si posizionano nel cuore per qualche minuto. poi la prima si sposta dal cuore all'altezza del primo chakra. osserva quale colore diventa. e rimani per qualche minuto a osservare le emozioni che questa genera in te. la seconda si sposta dal cuore all'altezza del terzo occhio, il sesto chakra. e osserva di quale colore diventa. si spostano davanti agli occhi, diventando un'unica sfera trasparente e luminosa, che pian piano prende la forma del corpo che ti ospita, coincidendo con esso, facendolo diventare trasparente. il corpo ora è trasparente e libero da vincoli emozionali. e tu e il corpo siete un'unica cosa. da questo ti espandi fino a contenere la stanza, la casa, la città, la nazione, la terra, il sistema solare, la galassia, la galassia, l'universo, fino a divenire infinito. rimani in osservazione qualche minuto. tu e l'infinito siete uno. abbandona i pensieri e diventa silenzio. e rimani nel silenzio interiore per qualche minuto. appena lo desideri riprendi il controllo del corpo, muovi le estremità dei piedi e delle mani, gira la testa a sinistra e a destra e appena ti senti pronto siediti e ringrazio.